Mi sono sempre battuto per la difesa della dignità dei cittadini, per la difesa della qualità della vita e continuerò a farlo, mi auguro da sindaco. Mi trovo in via Garibaldi 240 nella città vecchia di Taranto e sono appunto in una delle abitazioni di edilizia popolare dell'arca ionica ex IACP per intenderci. Uno stato di degrado, di decozione assoluta degli immobili, degli appartamenti con infiltrazioni, con umidità. Una situazione pazzesca, la si vede ovviamente dall'esterno ma ancora più grave è vedere certe situazioni all'interno perché la gente vive, la gente ci abita, la gente dorme e convive con l'umidità, con il tanfo che deriva appunto dall'umidità. E abbiamo qui una signora che abita appunto in questo stabile e davvero non ne può più. No, io chiedo un aiuto perché io ho due bambini, qua non ce la facciamo più per la puzza, noi stiamo sempre ad aggiustare, di bianchire, ho speso anche un sacco di soldi in questa casa, però non ce la facciamo più. Io sono entrato nella stanza in cui la piccola dormiva, ovviamente non l'abbiamo ripresa, è davvero incredibile, le bambine stanno sempre con la tosse, non ce la facciamo più, chiediamo un aiuto. Addirittura per cercare di colmare, di almeno di tappare, di salvare il salvabile avete provveduto a mettere dei pannelli appunto di cartongesso appunto all'altezza della volta proprio per coprire appunto queste continue infiltrazioni che ci sono. Ma infatti questi pannelli stanno cadendo, stanno cedendo perché di sicuro è tutto bagnato sotto, cioè anche se io ho speso dei soldi però alla fine. Il problema giustamente non si risolve all'origine, alla radice. No, il problema è sotto e la puzza in casa, ho anche vergogna ad ospitare qualcuno perché... Ma puoi pensare anche che delle persone innanzitutto, adulte o no che siano, ma soprattutto bambini, debbano vivere in questa condizione, soprattutto riportano chiaramente dei danni fisici perché convivere 24 ore su 24 con l'umidità che porta dei danni enormi. Sì, 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 in effetti, come ho già detto, le bambine stanno sempre con la tosse, è un problema che... Signora, sicuramente vi sarete rivolti molte, molte volte all'arca ionica, ma evidentemente senza risultato. No, senza risultato. Qua ci prendono in giro, dicono sempre che ci devono aggiustare, che ci sono i fondi per aggiustare, vengono i geometri, ma ancora nessuna risposta. E passano gli anni. E passano gli anni, passano gli anni. Io, vedete, queste sono case ovviamente di pertinenza dell'arca ionica ex IACP, ma un sindaco, seppure, ripeto, non sono case comunali, proprio perché parliamo di aree che insistono sul territorio del comune di Taranto, dovrebbe quantomeno degnarsi di sollevare la cornetta e, come dire, fare una telefonata. Cioè, è il minimo che un'amministrazione comunale faccia con un altro organo, qual è appunto l'ex IACP, l'arca ionica, un altro organismo. Però, ovviamente, la collaborazione tra gli enti, in questo caso, dobbiamo dire, è proprio inesistente. No, è inesistente. Qui siamo abbandonati da tutti. Non se ne fregano niente. Ecco, è davvero terribile, atroce, pensare che ci siano appunto cittadini che vengono considerati non di serie B, ma di serie C, di serie D o serie I dire, perché la dignità delle persone è completamente calpestata. Ecco, io da sindaco intenderò sollecitare l'attenzione, smuovere l'attenzione, urlare, tra virgolette, la rabbia di questa gente ai singoli, appunto, enti nella fattispecie dell'OIACP. Perché, lo ripeto, non sono case di pertinenza comunali, però un sindaco deve necessariamente interfacciarsi con gli altri enti. E' penoso, è assurdo che un'area, una città vecchia, il borgo antico, che dovrebbe splendere, dovrebbe brillare, invece si ritrova con degli appartamenti che stanno letteralmente cedendo, crollando a pezzi. E poi non solo questo, abbiamo anche il problema dell'acqua calda, che qua all'estate non ci possiamo fare una doccia. Appena torniamo da mare non ci possiamo fare una doccia perché hanno sbagliato a fare dei lavori, hanno messo le cisterne sopra le terrazze. Quindi si infuocano. Si infuocano perché non sono stati fatti i lavori a norma. L'estate non ci possiamo fare nemmeno una doccia, come lo stesso d'inverno, ci mette di là. E l'acqua è ghiacciata. A riscaldarsi e si guastano caldaie, si intasano i tubi, non possiamo neanche lavarci. Ecco, questi sono gli scienziati che vengono. Ci sono tanti problemi, sì. Ci sono gli scienziati che vengono, i geometri vanno, vengono, fanno sopralluoghi e poi il quadro è questo. Ci siamo spostati nella camera, nella stanza più ammalorata. Guardate nell'angolo cosa c'è. L'umido ha creato proprio una coltre nera sul soffitto. Un soffitto che, vedete, si sta incurvando sempre più, lo vedete. Ci sono quasi delle ondulazioni che appunto rappresentano questo curvarsi continuo. È davvero un quadro incredibile. Guardate qui lo specchio. È stato tolto, appunto, abbiamo per un attimo spostato lo specchio. E guardate l'umidità come è penetrata proprio nello specchio, nella parte retrostante lo specchio. Guardate. Io mi domando se nel 2022 possiamo ancora assistere a certe situazioni. Noi, signora, ci congediamo qui ma saremo con voi perché è giusto che la gente debba vivere una esistenza dignitosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.